Prima di iniziare ragazzi vi volevo ricordare come sempre un paio di cose da prima di lasciare un bel mi piace poiché infatti vorrei superare i 3005 e come seconda cosa vi volevo ricordare come sempre di passare da uticoinbank.com se siete interessati a comprare che di fifa o meglio ad aprire i pacchetti io mi raccomando utilizzate come discount code o come codice coupon il codice Axel con 2 per avere un ulteriore sconto link in descrizione e ciao a tutti ragazzi io sono Axel oggi oh my god oggi sono da solo però anzi voglio considerare questo momento come un momento solenne poiché infatti era da un macello di tempo che non vi portavo un video se possiamo così definirlo solito di fifa e ho detto eh no eh no eh no oggi dobbiamo portarlo perchè infatti ve l'avevo promesso e oggi cosa vi porterò vi porterò un video abbastanza strano nella quale andremo a provare questo fenomeno raggia Naigolan AT87 con statistiche veramente fenomenali e ragazzi per iniziare però volevo un attimo chiedere non so come stavate il tutto perchè ormai o ci stiamo sentendo nei vlog oppure nel live streaming quindi contatti se possiamo dire così con un video normale con i miei iscritti non l'ho da un macello di tempo quindi comunque spero che siate bene e ragazzi oggi andremo a provare appunto questo giocatore facendo il torneo devo dire che sono già andato un po' avanti sono arrivato alle semifinali e vi volevo chiedere se magari mandava a titanica su un video simile a un pari d'altri tornei quindi mi raccomando lasciate un bel commento se lo volete e lasciate un bel mi piace poiché infatti per avere un nuovo video di fifa dobbiamo superare i 3.500 andiamo a vedere lo sfidente di oggi che utilizza una serie A chissà perchè torneo della serie A e niente 4-2-2-2-2 e quel dunia mi fa abbastanza paura ma noi ragazzi proveremo a vincere come sempre chiudo la luce perchè ho tipo stracaldo e mano a 60 gradi quella luce e detto questo direi subito di partire con il merda Arturo Creaturo Vidal eccolo qua in angolano che smi sta bene per quadrato attenzione quadrato e le skill è bello così il camiglick si fa super no vabbè quelli che fanno così dio mio le bestemmie bravissimo Cavanda si è un fenomeno non sa neanche lui come ha fatto il capolo porco diaz palo mannaggia che tiro che aveva fatto eccolo in angolano così si libera tutti in destro ma un altro palo oddio spacca le cose oddio ho preso un altro palo a me la gente che va giù così io non la reggo non la reggo non la reggo ma c'è il cam il tanto non è vero non è vero dio mio che palo oh alla prima e ragazzi è crollato il computer e è saltato tipo tutto il commento sperando che non sia andato nulla vacche comunque noi adumbiamo e adumbiamo non piace neanche usare perchè sarebbe troppo facile ma noi abbiamo l'acquaraggia che rivoluzionerà la partita guaro già guaro vengo l'an tengo la bella 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 sfruttiamola sfruttiamola era rigore arbitro figlio di troia bello dai mertens dai mertens come ti ha visto l'acquaraggia come ti ha visto la perchè perchè no vabbè ma fa cose che io non dico se vuoi giocare da solo per ilà noi ci crediamo ancora perché adesso Arturo c'è la piazza che cosa l'ha fatto Arturo che cosa l'ha fatto Arturo 1-1 e andiamo così taglie e tuzza e tuzza e taglie e taglie così ritornano le vecchie robe e ancora con sti lanci vedi che c'è la mamma puttana non è giusto due volte è salito che schifo bello 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 ma che cosa l'ha fatto Pereda ma che cosa l'ha fatto Pereda mamma mia che bregio 2-2 al 73esimo si così dai dai si così ancora Pereira oddio no l'ha saltato i due davvero è un fenomeno oddio l'angolante oddio l'angolante oddio l'angolante dico cali nero cali nero cali nero le scatta uno pochino non è il piede nero lascia l'angolante vedi costa la piazza che ragazzi aiuta ma che prego l'angolante così grazie che abbiamo l'angolante mamma mia ed è finita signori e andiamo a giocarci la finale adesso andiamo a prenderci sta coppa anche ragazzi fa stra caldo questa maglietta sto pezzandissimo ci siamo finale andiamo a vedere chi troviamo andiamo a vedere chi troviamo SSC Napoli 4-3-2-1 ah dura anche questa dai 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 madonna 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 ecco l'angolante incrocia parata pensavo sia fuori gioco ma perché prende sempre incrocio questo l'angolante ha preso un altro incrocio mamma mia ancora si è liberato da dio bella vedi quadrato così così la mette in demitto e fa era lì l'uomo e lui la fa finire perché perché l'hai passata indietro no 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 io spaso io spaso no in finale per questo errore non posso perdere no non esiste non esiste esiste invece esiste esiste l'ho passata sprova tutto per tutto i barbo d'umbia oh mio dio ragazzi io ci credo oh mio dio ragazzi io ci credo oh mio dio ragazzi io ci credo io ci credo l'angolante fuori gioco vortaggi tua dio mio abbiamo perso in finale ragazzi mi dispiace un macello e vabbè ci riproveremo comunque spero che il video vi sia piaciuto per essere sincero nera da un macello che non lo facevo video simile mi sono divertito un macello mi raccomando lasciate un bel mi piace lasciatelo anche adesso se non avete ancora fatto iscrivetevi detto questo non mi sembra altra cosa a dire anzi invece si perché infatti se il video vedo che appunto vi è piaciuto vi porterò lo stesso genere di video solamente anche per gli altri torni e quindi per gli altri campionati quindi detto questo non mi sembra altra cosa a dire quindi vi saluto e vi dico un po' di la base del prossimo video ciao a tutti